buongiorno a tutti voi questo è un congresso che si occupa di soprattutto oncologia a livello cellulare e molecolare ma con prospettive di applicazioni poi in clinica naturalmente e nasce l'idea dal mettere insieme scienziati che vengono da diverse realtà accademiche negli stati uniti in europa abbiamo avuto ospiti dalla francia dalla spagna dal portogallo e alcuni anche ovviamente italiani lo scopo era quello di riunirci per valutare discutere un pochino quali sono le novità in ambito oncologico le ultime scoperte che sono state fatte utilizzando queste tecnologie cosiddette omiche cioè che sono le tecnologie più nuove quelle che consentono di studiare le modificazioni a livello del dna dell'rna quindi la genomica la trascrittomica il metabolismo delle cellule il microbiota e allora mettere insieme le conoscenze ultime su tutti questi aspetti del funzionamento nella cellula con possibili interventi terapeutici sia con farmaci e chemioterapici per quelli che conosciamo ma anche nuovi farmaci di derivazione invece nutraceutica e questo per così nella speranza di individuare qualcosa che possa dare una speranza in più ai pazienti della chiave di lettura che si deve dare di questo convegno che poi le voglio dire il primo di una serie di congressi che intendiamo fare annualmente è quello di dare una base molto scientifica all'utilizzo del nutraceutico noi oggi il nutraceutico lo vediamo un pochino così come l'integratore che tanto non fa male e non è questo lo scopo noi vogliamo qui ricordare che la gran parte del 98 per cento dei farmaci che noi usiamo sono nati dalla botanica farmaceutica dalle piante dalla medicina tradizionale e adesso li vediamo nella forma purificata chimica il nutraceutico cos'è ha un vantaggio perché in realtà si un integratore ma a sua volta è un insieme di tante molecole che hanno diversi bersagli molecolari allora lo scopo principale di questo congresso era anche quello di individuare a livello cellulare molecolare quali erano i bersagli su cui questo quali sono i bersagli su cui questi nutraceutici possono agire proprio per dare una base scientifica del loro utilizzo abbiamo presentato sono state alcune relazioni proprio sui nutraceutici una è quella che ho fatto io come keynote lecture sull'uso del resveratrolo e in effetti non solo mostrato sì che il resveratrolo ha un potenziale anticancro ma anche quali sono i meccanismi alla base del dell'azione ecco la novità e la differenza sta qui che cioè non è più il raccontare in modo anedottico che il nutraceutico fa bene ma dargli una base scientifica la stessa cosa vale per i probiotici adesso va tanto di moda la parola microbiota eccetera però lo scopo di un congresso scientifico non è tanto quello di presentare il prodotto quanto quello di studiare il meccanismo d'azione per giustificarne l'utilizzo perché poi si va sul paziente e quindi prima di poterlo prescrivere al paziente bisogna avere la certezza la base scientifica che ci sia un razionale dietro ora tutto questo quindi è stato accompagnato da studi a livello cellulare molecolare ecco perché prima ho parlato di genomica trascriptomica eccetera perché molte relazioni avevano anche come obiettivo quello dello studio di ciò che accade ehm all'interno di un tumore mi permette di farle mh ecco qualche highlight le mi chiedeva prima quando nasce un tumore impiega quasi almeno dieci venti anche trent'anni prima di eh affiorare alla clinica in tutta questa storia naturale eh nelle cellule avvengono diverse mutazioni e cambiamenti ed è quello che accade cioè si dice va in evoluzione il il nostro tumore questo vuol dire che quando poi facciamo diagnosi ci troviamo di fronte non già a un tumore ma a un misto di venti trenta cinquanta tumori diversi che sono tutti l'insieme ma che sono formati da cloni si dice cioè da gruppi di cellule fra di loro omogeneamente uguali ma che sono diverse da quelle accanto e allora eh adesso con delle eh tecnologie molto sofisticate si riesce a vedere eh per strati le differenze che ci sono nel contesto di questa massa tumorale e questo ci permette anche di capire il perché quando facciamo terapia è vero che vediamo ridurre la massa del tumore ma poi rimane quel qualcosa che di nuovo ci darà la recidiva e e questo perché perché usiamo eh dei farmaci che bersagliano solo una parte del tumore quindi il tumore non è tutto un tumore ma sono tanti tumori allora se noi riusciamo a capire le differenze fra i tanti tumori possiamo anche immaginare di fare una terapia diversa da quella che facciamo oggi che cosa facciamo oggi noi oggi per combattere questa diversità diamo magari cinque chemioterapici tutti in una volta ma questo ha tanta tossicità se noi invece impariamo una cosa che in questo congresso è venuta fuori cioè ed è molto bello questo una relazione che ha fatto vedere come prendiamo il tumore della prostata c'era un gruppo di cellule con i recettori per gli ormoni e un altro senza allora se io tratto quindi con ormoni posso distruggere una parte soltanto ma il bello e il brutto cioè è che quello che rimane poi prende il sopravvento e cresce ancor più di quanto crescesse prima allora in un'altra relazione in un tumore della mammella il collega americano ci faceva vedere appunto con queste tecnologie di sequenziamento come certi geni erano espressi in modo diverso nelle diverse sottopopolazioni tumorali allora che cosa voglio dire è che se anziché dare cinque chemioterapici tutto in una volta glieli diamo in modo sequenziale togliendo prima una popolazione poi quando emerge l'altra gli diamo e quindi facciamo una terapia che è un pochino più dilazionata riduciamo la tossicità intanto e forse abbiamo più probabilità alla fine di prenderli tutti un altro aspetto molto importante interessante che è venuto fuori e vale ho un conflitto interesse perché era nella mia relazione tra l'altro è quello della dormienza tumorale cioè mettere in sonno le micrometastasi la dormienza tumorale è un concetto relativamente nuovo ma che in clinica ancora non c'è infatti questo tipo di congressi devo dire anticipa di cinque dieci anni ciò che poi finirà in clinica speriamo di accorciare i tempi però perché perché ci sono ormai dati abbastanza solidi che dimostrano la possibilità di tenere il tumore residuo dormiente questo cosa vuol dire vuol dire che una volta che ho fatto diagnosi che il chirurgo ha rimosso quel che ha potuto supponiamo anche l'ottanta per cento se va bene il 90 per cento perché raramente ha la possibilità di togliere esattamente tutto il tumore e poi ci sono delle micrometastasi in giro allora poi la chemioterapia anziché puntare a distruggere quello residuo con il rischio di aumentare di tanto la tossicità secondaria perché naturalmente immagini questo no se io faccio la chemioterapia perché ho un tumore che di mezzo chilo me la gioco bene ma quando poi sono rimasti 50 grammi il rapporto beneficio e tossicità non è poi così vantaggioso allora la nuova filosofia potrebbe essere va bene ma quando mi rimane il tumorino 50 grammi anziché cercare di ucciderlo vedo di metterlo in sonno cioè fare una terapia con dei farmaci che bloccano la proliferazione cellulare quindi lo lasciano lì dormiente per anni questo è possibile quindi questo possiamo prefigurarci nel futuro una terapia diversa e questo ancora per dire quali possono essere diciamo gli highlight di questo congresso riguardano invece i probiotici quindi il microbioma l'influenza che ha il microbioma sulla crescita tumorale non solo a livello del colon ma anche a livello della cute piuttosto che della vagina o altro allora anche qui si può ragionare in termini di usare i probiotici come terapie adiuvanti di supporto che possono migliorare gli effetti poi del chemioterapico usato a una dose inferiore quindi ridurre la tossicità e mi viene a mente un'altra relazione riguardava proprio l'utilizzo di nutraceutici per attenuare la cardiotossicità delle chemioterapia quindi per darle così un quadro generale e questo è stato un congresso dove si sono così presentati dati che hanno messo insieme sia gli studi molto dettagliati dal punto di vista molecolare con le prospettive di traslazione in clinica e che poi possano portare ad avere terapie adiuvanti complementari integrative di supporto che possano attenuare un po la tossicità della chemioterapia tradizionale se non sostituirla o comunque sinergizzare in modo da ridurre appunto gli effetti collaterali